Al John Moni va in scena l'anticipo della 27esima giornata del campionato di eccellenza fra Castiglione del Lago e Lama. Padroni di casa che vengono da un fondamentale vittoria con il Ventinella, Lamarini invece bloccati sullo 0-0 dal Foligno. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime del nafragio di Cutro inizia il match. Veimenti proteste fra i locali al decimo di gioco, grande in bucata di Lidia Perdurzo che si presenta contro Luigi. Per i padroni di casa il contatto fra portiere e bomber è irregolare, non c'è nulla invece per il direttore di gara. Castiglione del Lago schierato da Riberti con un 4-4-2, con Venea fra i pali, Patrignani, Lignani, Vignati e Colarieti a comporre il reparto arretrato. Osako, Edida, Nicola Galeotti e Bura in mezzo al campo, Durso, Bracca Lenti, Tannenno d'attacco. Risponde al trediesimo in Lama, punizione velenosa di Bruschi, pala che carambola sui piedi di proiettiche e prova a beffare Venea. Attento il portiere di casa a chiudere la porta e sa sventare il pericolo. Ospiti disegnati da Tomassoli con un 4-3-3, con Luigi in porta, Ferri, Mambrini, Cappellacci e Marinelli in difesa, Bruschi, Petricci e Proietti in cabina di regia, Mariucci, Bartolucci e Orlandi nel tridente. Al trentasettesimo il Lama prova il colpo da fuori, la conclusione di Petricci è però di poco alta sopra la traversa. Cinque minuti più tardi è Bura a provare la stoccatra alla distanza, il suo destro viene però facilmente neutralizzato da Luigi. Dopo due minuti di recupero arriva il duplice fischio del direttore di gara. Con le riprese e il montaggio di Matteo Marzella passiamo ai secondi 45. Parte subito forte il Castiglione nella ripresa, passano solo 60 secondi ed è decisivo Marinelli sulla rasogliata in area di Bura. Al quindicesimo della ripresa Bura porta avanti i suoi, ma ci pensa l'assistente Cricco a fermare tutto. Posizione di offside del numero 10 Biancorosso. Cinque minuti dopo ci prova Bruschi da punizione. Il suo destro da sotterra esce però di poco alla destra di Venea. Al ventitresimo il Lama la sblocca, perde una palla sanguinosa centrocampo Braccalenti. Sfera che arriva a Bruschi che se la porta sul sinistro e la piazza dove Venea non può arrivare. Solo quattro minuti dopo Braccalenti ha l'occasione di redimersi dopo l'errore precedente. Il suo destro al volo è però dritto fra le braccia di Luigi. Trenta sul cronometro il fischietto di Ternia segna un penagel Castiglione per un presunto fallo sudurso. Copiose le proteste degli ospiti per la decisione presa dall'arbitro, dagli schietto va Braccalenti che spiazza Luigi e rimette tutto in gioco. Protestano ancora la Marini al quarantatresimo, presunto fallo in aria su Bartolucci. Per il direttore di gara non c'è però nulla. All'ultima palla gol della partita il Lama trova il vantaggio. Calcio di punizione e sfera che arriva sulla testa di Petricci che batte un incolpevole Venea. Dopo quattro minuti di recupero termina il match. Castiglione che perde una buona occasione per superare il Lama e agguantare momentaneamente Narnese BMG. Lama che si porta cinque punti dalla zona play-out. Michele Riberti eravate riuscita a pareggiarla, dispiace perderla così nel finale. Beh assolutamente è stata un po' una beffa perché la partita non meritavamo di perderla sicuramente. Abbiamo avuto tre o quattro palle gol. Purtroppo anche l'andata lo stesso al novantatreesimo, novantatquattresimo ci sta, ci sta. E poi se mi permetti vorrei dare un abbraccio, esco un po' dal calcio, ai miei compaesani di Pierantonio che stanno passando dei momenti non facili e anche se il calcio diciamo è lontano dalla loro situazione gli voglio star vicino dicendo queste due parole, ecco così. Siamo venuti a Massoli, era importante vincere oggi per allontanarsi dalla zona play-out e ci siete riusciti nel finale, penso sia anche la cosa migliore per il Lama oggi. Generalmente noi le partite nel finale ci giravano un pochino contro oggi invece ha girato a nostro favore. Questo vuol dire anche che l'atteggiamento dei ragazzi in campo è cambiato. È stata una partita durissima, giocata in maniera diciamo molto agonistica quindi con molto dispendio di energia, però come hai detto te era importante vincere ci siamo riusciti e adesso ci godiamo questa vittoria, ci dà la morale per andare avanti perché venivamo da un periodo dove non tanto le prestazioni ma i risultati ci penalizzavano qualche volta anche oltremisura. Quindi vediamo, vediamo quello che può cambiare, comunque i ragazzi si impegnano sempre cercano sempre di prepararsi al meglio a ogni partita.